Salerno, 6 del mattino, 7.40 è sparito, non ha nemmeno fatto colazione, fa spesso così, va in fuga senza avvertire, è un lupo solitario, tanto sa che poi lo trovo, e di fatti, eccolo, sul lungomare, assorto sui binari. Paisà, che fai? Mi fa segno di tacere, tiene un oggetto appoggiato sulla rotaia, mi avvicino in punta di piedi, è un microfono con un registratore, riavvolge il nastro, mi fa ascoltare, è l'ouverture della tarantella ferroviaria napoletana, un merci che sbuca lentissimo dal porto nel silenzio del mattino. Carico di container, emette un suono siderale, un coro sopranaturale di cigolii, par di vederlo che sfiora la statua di Enrico de Marinis, un simbolo della borghesia illuminata campana, che fu, alta, su un giardinetto a prato all'inglese, e prosegue a passo duomo, sul più bel lungomare della campania, solenne, tra i palmizi e caffè, carico di sovrana lentezza. 7 e 40 è peggio di un agente dei servizi segreti, piazzerebbe microfoni ovunque. La sua teoria? Uno che cerca suoni deve avere tanti microfoni, esattamente come un fotografo, che gira con più obiettivi. Spiega. L'orecchio non basta, bisogna riascoltare il suono a storia finita. Per una ricerca seria servirebbero un microfono direzionale, uno panoramico, uno a campo lungo e uno a campo corto, e poi fare il confronto. Si va. Napoli ci mette fretta. Non sappiamo se stiamo inseguendo o siamo inseguiti. Il locomotore perfora la penisola sorrentina. Si affaccia sulla spiaggia nira nira. Il paesaggio è una favola. Il vantaggio sull'autostrada? Incomparabile. Siamo sulla più antica linea d'Italia, la Napoli-Portici, che vola su sei milioni di abitanti. Entra in un termitaio infinito, scopre il segreto della città verticale. Da una parte, sul lato mare, torri, montagne, pinnacoli di container sovrapposti. Dall'altra, torri, montagne, pinnacoli di uffici della city partenopea. Poi è Napoli-Centrale, con le porte scorrevoli del treno, che si aprono e si chiudono. Si aprono e si chiudono con un comico effetto moviola e la cedere che ci accoglie in tenuta antisommossa i cani. Strano! La stazione è semivuota. Chi aspettano gli agenti? Tifosi di calcio? Dove sono i napoletani? Per capire, devi entrare nel termitaio. Sotto c'è Napoli-Collegamento, capolinea della ferrovia regionale circunvesuviana. E sotto ancora, Napoli-Porta Garibaldi, con il metro. E' qui che comincia il più straordinario labirinto d'Italia. 1250 chilometri di linee, la più alta densità nazionale. Un pianto di linguine, un baobab che cresce dappertutto. Sulla piattaforma e le scale mobili, ci aspetta al barco un popolo di improbabili facchini, puttanelle, accattoni, bambini acchiappaturisti. Stangone americane, con lo zaino, passano decise. Sanno già la strada. Sono agguerritissime. Nel loro Bedeker c'è scritto tutto sul malpasso sotterraneo. Per esempio, si raccomanda di non farsi arpionare l'Italia come il Marocco. Un biglietto per Poggio Marino via Torra Annunziata. Prego. Quello oltre il vetro. Se vuole c'è il biglietto unico. Cominciano le sorprese della campagna. La regione ha più alta densità ferroviaria d'Italia. Unico è la carta passepartout regionale. Ed è una goduria comprarla. È il primo segno d'Europa dopo 2.000 km clandestini. Finalmente, il computer non rifiuta la nostra richiesta. Tra Scisciano e Nola, il trenino corre su un viadotto di 10 km. Non deve superare i valli, ma il mare. Un mare di case, orti, condomini, antenne televisive, alberi di noccioli, fabbriche, masserie, torrenti, cantieri, campi di pomodori. Ma la linea che vola su questo trionfo della deregulation incrocia un altro ponte, ancora più alto. è lo svincolo dell'autostrada Napoli-Avellino e della Caserta-Salerno. Ma non è ancora finita, perché la ferrovia si prende la rivincita con un viadotto ancora più pazzesco, l'alta velocità in costruzione. Ha la testa in cielo e le fondamenta nel formicaio tra le moltitudini schiacciate dal Dio Trasporto. Scatti, accelerazioni, adrenalina. Spio dal vetro in cabina il macchinista che guida, gagliardo. Ogni tanto gli suona un'allarme per eccesso di velocità. Così gli tocca frenare e l'andatura si spezza continuamente. Il vagone è pieno. Qui non ci sono rami secchi. A noto. Genitori giovani con tre figli. Uno in braccio, due attaccati alle gambe. Donne carnose, esagerate. Uomini con giacca e cravatta allentata. Fanciulle con orecchino e umbelico in mostra. Badanti polacche, robuste come corazzate. Ragazzi con i capelli dritti, di brillantina. Marocchini che confabulano. Due zoccolette ventenni che sembrano divertirsi. Un ciclista che sbarca. Tanta gente con borse di plastica. Figurarsi se c'è l'aria condizionata. Si viaggia a finestrini abbassati. Dentro, vortici spaventosi. Una donna osa. Signo, chiudete un finestrino. L'uomo chiudendo divertito. A prossima vota. Mettetevi a sciarpa. Voce dal fondo. Anche il casco da moto. Ottaviano, Pompei Scavi, Castellammare. Questa non è la ferrovia dell'Etna solitaria tra le ginestre. Il Vesuvio è un vulcano metropolitano. Tra il cratere e le rotaie c'è distanza minima. La gente lo vive con intimità, confidenza. E il treno passa tra gallerie e giardini di limoni. Stratificazioni di terrazze. Case e balconi. Un coppa o mare. L'intasamento è pazzesco. Una giungla irriformabile. Ma ogni cantoniera, ogni stazione, ogni passaggio a livello è guardato e abitato. La circunvesuviana è una creatura viva, piena. Anche di ladri. Ladri viaggianti. Colpiscono prima delle stazioni. Tutti lo sanno. E tutto il treno, quando rallenta, lampeggia di occhiate e guardinghe. Così hanno istituito anche i vigilantes viaggianti. Ne passa uno, con stivaloni da motociclista e il telefonino con la suoneria da guerre stellari. Fantastico. Napoli è attaccata alla sua ferrovia. Figurarsi alla sua nuovissima metropolitana. I nonni ci portano i bambini in visita. Entrano in punta di piedi come in chiesa. Si dice che quando si collegò il vomero al suburbio di Secondigliano, il primo gridò all'invasione dei barbari. E invece non accadde nulla. Niente graffiti o devastazioni. La linea rimase pulita e silenziosa come una clinica svizzera. Lo stomaco di Napoli digerì tutto. Usciamo sulla superficie. Abbiamo viaggiato per otto ore dentro il piatto di linguine. Non contiamo più i chilometri. Ora siamo davvero due matti in fuga. Abbiamo addosso l'odore del treno. Napoli ci possiede. E mancano 4217 chilometri all'arrivo. E mancano 4217 proud luxu palpitare dell'arrivo. Tutto da re Coulee. Abatto. No, non 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 buồnare lievelkte perché.